Era il primo giugno 1975 quando veniva completato l'acquevotto Bivongi Pazzano stilo, oggi detto del marmarico, costruito dalla cassa per il mezzogiorno. Lavori iniziati il 30 luglio 1966 e completati dopo nove anni per le difficoltà incontrate nell'attraversamento dei tubi della rete lungo la tortosità del percorso di circa 10 km e principalmente al bacino madre dove bisognava posizionare i tubi per l'attraversamento della fumigare stilaro perché in quel punto si presentavano due alte sponde di 60 metri. I progettisti superarono la difficoltà costruendo uno stretto ponte in cemento dove poggiarono la parte iniziale della condotta. Per la costruzione la cassa per il mezzogiorno finanziò nel 1965 una somma di 231.114.000 lire, oggi circa 2.500.000 euro. Un progetto avvenilistico per l'epoca che riuscì dopo secoli a dissetare i comuni di Stilo, Pazzano e Bivongi. Ancora oggi a distanza di 47 anni è perfettamente funzionante pur se nessun intervento di manutenzione è stato fatto se non quando si è verificato qualche guasto lungo la condotta. Purtroppo nell'imminenza della costruente centrale idroelettrica o meglio della riattivazione della centrale idroelettrica denominata Marmarico degli anni 1930, voluta dalle amministrazioni comunali passate che sfrutterà l'acqua della fiuma Razzaria e Ruggero che coinvogliate formano la cascata Marmarico da cui origine il fiume Stilaro, molte le preoccupazioni sull'impatto ambientale e se inciderà sulla portata dell'acquedotto. Su ciò si è aperto in paese e non solo ma anche a Stilo e Pazzano una discussione sulla bontà della centrale ricordando la contestazione di Nicola Lombardi e Salvatore Murace componente di penoranza nella seduta del Consiglio Comunale dell'agosto del 2007 all'alloro Assessore Esterno all'Ambiente Natale Valenti dell'Aggiunta del Sindaco Ernesto Riggio perché la riattivazione della centrale Marmarico secondo gli accordi intercorsi tra l'amministrazione comunale e la ditta Alberti, costruttrice dell'impianto chiuderebbe la cascata del Marmarico lasciandola aperta ai turisti solo nei tre mesi estivi. Perché l'amministrazione dell'epoca e la ditta costruttrice della centrale non hanno mai ascoltato i cittadini che chiedevano di deviare l'acqua della cascata per verificare se avesse inciso sul bacino madre dell'acquedotto? Sarebbe stata una prova rassicurante per tutti anche se da tempo nessun comunicato della Sorical che gestisce l'acquedotto per chiarire i tanti interrogativi. Ad intervenire però è il Presidente della Federazione Internazionale del Mediterraneo Ambiente Giuseppe Nunziato Bercastro Sorpresa e allarme in provincia di Reggio Calabria dice Bercastro per la notizia del progetto di realizzare a Bivongi sito dall'alto valore naturalistico una centrale idroelettrica. La voce circolava da diverso tempo e ultimamente ci hanno pensato diversi soci di Medambiente a portare alla ribalta il progetto ponendo in guardia dai grischi che la realizzazione dell'impianto comporterebbe per una valle fino ad oggi rimasta incontaminata capaci di richiamare moltissimi visitatori. La quantità di acqua da derivare dal torrente potrebbe incidere negativamente sull'equilibrio naturalistico del contesto paesaggistico già vincolato ai sensi delle leggi regionali e nazionali nonché tutelato da norme europee. Meglio tutelare il paesaggio che produrre energia idroelettrica e Bivongi non deve autorizzare la costruzione di un manufatto non sostenibile come quello di altri comuni d'Italia. Ha senso soltanto a piccole turbine a bulbo completamente immerse nell'acqua. Per finire, ricordo che ogni intervento deve prevedere azioni di salvaguardia e compensazione del contesto ambientale. Ciò premesso, l'amministrazione comunale di Bivongi non può fare a meno di rilevare che l'invocazione del principio della pubblica utilità per la realizzazione dell'intervento così come previsto dalle normative vigenti non può prescindere dall'apparimento in vocazione dell'interesse pubblico per la tutela di un patrimonio naturalistico. Ma tutto questo iter che dura da vent'anni per cosa? Per 2.000 euro su ogni milione di kilowattore prodotto che andrebbero a comune secondo gli accordi con la ditta Alberti? In definitiva, la produzione annuale stimata con la centrale a regime è di 12 milioni di kilowattore che comporterebbe un introito comunale di 24.000 euro di cui sicuramente anche comuni di Stila e Pazzano dovrebbero fruire perché interessate dal progetto sviluppato anche sui loro territori. Lo suoi vince dai circa 200 espropri anche a privati per l'attraversamento dell'elettrificazione nelle loro proprietà già pubblicate dalla regione Calabria alcuni anni fa ma che in pochi ne sono a conoscenza. Il gioco non vale la candela il commento di chi conosce ha seguito l'iter per la riattivazione meglio mantenere integro lo stilaro e la cascata volgetto altrove la produzione di energia alternativa e riprendendo il vecchio progetto sull'eolico proposto nel 2007 dalla società danese Baltic.